Assurdo, fa sempre le solite cose. E le fa pure male. Non è semplice e non è nemmeno flessibile. A volte non capisco neanche come si usa. Ci vorrebbe qualcosa di più intuitivo. Sì, qualcosa di diverso. I software per alberghi e ristoranti di Passepartout sono completi, affidabili, migliorano ogni attività e diventano i veri alleati del tuo business. E si risparmia pure sui costi. Visita il sito passepartout.net o chiama all'800 41 42 43. Se vuoi di più, c'è Passepartout.